Buonasera, tra poco nel telegiornale vedremo che una delle più importanti organizzazioni non governative del mondo mette in discussione, anzi contesta potremmo dire apertamente, le nuove regole introdotte per cercare di gestire l'emergenza migranti nel Mediterraneo. Cosa è successo? Che Medici Senza Frontiere ha deciso di ritirare il suo personale, i suoi volontari. Perché? Perché è troppo rischioso, in particolare il rischio verrebbe dalle operazioni della Guardia Costiera libica e da quelle zone decise di mare dove possono intervenire appunto soltanto controlli da parte libici. A quel punto, dice Medici Senza Frontiere, per quanto ci riguarda la nostra sicurezza non è garantita, ritiriamo le nostre, chi partecipa alle operazioni di soccorso. E di poco fa è la notizia che, condividendo la posizione, anche l'altra organizzazione, un'altra, un'altra importante organizzazione non governativa, Save the Children, sta valutando lo stesso tipo di scelta. Questo è lo scenario, sappiamo che la gestione è difficilissima, sappiamo tra l'altro che tra le difficoltà c'è proprio la situazione in Libia. Allora, al fianco delle organizzazioni non governative, ma questo prima ancora della decisione di Medici Senza Frontiere e di Save the Children, si era già messa la Presidente della Camera, Laura Boldrini, dicendo è inaccettabile questo clima che si sta creando appunto contro le ONG. Ma dicevamo, le difficoltà vengono anche dalla Libia. Ecco, oggi ha parlato, intervista al Corriere da Sera, il capo della parte della regione cirenaica, quella a est, quella che poi va a finire confina con l'Egitto, il generale Khalifa Haftar. E cosa ha detto? Innanzitutto attacca al Sarraggi, il suo rivale in Libia, dicendo che non poteva, ha tradito, ha violato gli accordi di Parigi. Lo scorso 20 luglio a Parigi, convocati da Macron, Haftar e al Sarraggi avevano preso una serie di accordi e secondo Haftar, poi al Sarraggi, dialogando da solo con l'Italia, aveva violato quella che era stata l'intesa invece a tre. Haftar che dice anche, comunque, non ho niente, l'Italia non è minacciata dalla mia parte, con 20 miliardi di euro io riesco a gestire l'emergenza migranti. Haftar che oggi è volato a Mosca, sapete poi che, poi anche quello è il problema, che i paesi vari appoggiano le due fazioni, il governo riconosciuto dalla comunità internazionale è quello di al Sarraggi. Questo è quello che riguarda la Libia, poi la Corea, e allora oggi, diciamo, ricordate la linea rossa, quella era tra Mosca e Washington, oggi c'è stata una telefonata importante tra gli Stati Uniti e la Cina. Cosa è successo? Che Trump ha sentito il presidente Xi Jinping e alla fine ne è uscita una posizione di cerchiamo di frenare, di abbassare i toni e questo è importante, perché? Perché la Cina è l'alleato storico della Corea del Nord, insomma, chi guarda le spalle a Kim Jong-un è sicuramente la Cina, senza un simile appoggio diventa la posizione difficile. Kim, che insiste comunque, continua con le sue minacce e le provocazioni. Ma questo virus della guerra, della paura, sembra un po' viaggiare trasversalmente da una parte all'altra del mondo. Perché? Perché adesso si apre un altro fronte, e cioè, Donald Trump ha detto al presidente del Venezuela, Maduro, se nel tuo paese non viene ripristinata la democrazia, siamo pronti anche ad un intervento militare. Maduro che ha detto, ma parliamo, sono pronto a un incontro che Trump ha negato. E ancora, le uova contaminate, ne parleremo, si sapeva, è un vero e proprio scandalo, perché erano tossiche, si sapeva da più di un anno, e in Belgio nessuno l'ha sognalato, per quanto riguarda l'Italia la situazione pare sia rassicurante, e ancora vedremo che ci sono novità per quanto riguarda l'Attac a Roma e notizie tragiche invece che arrivano dal Kenya. Ma insomma, la scaletta è molto ricca. Iniziamo il telegiornale con i titoli, tra 30 secondi. Medici senza frontiere interrompe le operazioni di salvataggio migranti davanti alla Libia, secondo l'ONG, che non ha firmato il protocollo Minniti. C'è un rischio sicurezza dovuto alle minacce della Guardia Costiera Libica e alle limitazioni poste da Tripoli alle operazioni umanitarie. Forse anche Save the Children potrebbe interrompere le operazioni di soccorso. Escalation di minacce tra Corea del Nord e Stati Uniti. La Cina interviene a fianco dell'America, invitando Pyongyang a cessare le provocazioni. Ma le sortazioni di Pechino e gli avvertimenti di Washington non sembrano fermare il regime di Kim Jong-un, che minaccia ancora il nostro esercito, attende solo l'ordine per l'attacco finale. Obiettivo, ancora una volta, ripete, l'isola di Guam. Il presidente Trump non esclude l'opzione militare neanche per il Venezuela. Una presa di posizione dura che arriva dopo il rifiuto dello stesso Trump di un colloquio con il presidente Maduro che lo ha cercato. Parlerò con lui, ha detto Trump, quando ripristinerà la democrazia e il rispetto della Costituzione nel suo paese. E c'è un boom di introiti dalla rottamazione delle cartelle sattoriali. Secondo le prime stime, ancora da certificare, alla scadenza della prima data del 31 luglio, l'extragettito è di quasi 2 miliardi, un tesoretto che potrebbe tornare molto utile in vista della prossima manovra. Belgio sotto accusa per la vicenda delle uova contaminate. L'allarme era stato già dato nel giugno 2016, ma l'Agenzia per la Sicurezza Alimentare belga non ha organizzato controlli necessari per rintracciare l'eventuale uso dell'insetticida nella catena alimentare. In Italia sequestrati, in via cautelare, tre lotti di prodotti alimentari derivati da uova provenienti dai paesi a rischio. In Kenya esplode la violenza. Dopo le elezioni che hanno visto alla conferma del presidente Kenyatta, si parla di 24 morti negli scontri tra polizie e manifestanti che contestano l'esito del voto, ma per l'opposizione morti sarebbero già un centinaio. La Commissione internazionale che ha vigilato sulla correttezza del voto parla di elezioni sostanzialmente corrette. Buonasera, dunque l'organizzazione non governativa Medici Senza Frontiere ha deciso di sospendere le sue attività nel Mediterraneo perché la decisione della Libia di istituire zone riservate di intervento mette a rischio la sicurezza dei volontari in mare. Per il presidente di Medici Senza Frontiere è in corso un tentativo di spingere le navi umanitarie fuori dal Mediterraneo. La posizione di Medici Senza Frontiere viene condivisa da Save the Children che, si è saputo poco fa, sta valutando anche questa organizzazione se sospendere le operazioni di soccorso in Mediterraneo. Medici Senza Frontiere si ritira. La più importante delle organizzazioni internazionali non governative ha deciso di sospendere i salvataggi nel Mediterraneo. Troppo pericoloso la Libia spara. Dopo le recenti minacce e dopo un'allerta a sicurezza emanata dalle autorità libiche c'è il rischio di finire nel mirino della Marina Militare di Tripoli che sta avendo, dicono i rappresentanti dell'organizzazione, un comportamento minaccioso che riteniamo molto grave. Non possiamo mettere in pericolo i nostri colleghi. Il presidente Loris De Filippi parla di sospensione temporanea delle attività in mare. Una decisione pesante, quasi un abbandono del campo, sintomo di una tensione fortissima sul fronte Libia-migranti. 69.000 salvataggi all'attivo. Medici Senza Frontiere gestisce la Vos Prudens, nave soccorso che adesso è ferma alla fonda ancorata nel porto di Catania. Rimane in mare un'equip medica dell'organizzazione che si trova a bordo della nave Aquarius di SOS Mediterranea, l'ONG che proprio ieri ha deciso di sottoscrivere il codice di comportamento in mare stilato dal Viminale e sostenuto dall'Unione Europea. Il documento in 13 punti, che Medici Senza Frontiere invece si è rifiutata di firmare, ma nella decisione di ritirarsi centra il giro di vite della Libia, un dispaccio delle autorità di Tripoli che hanno chiesto alle ONG di stare al di fuori di una zona di mare molto più estesa delle 12 miglia nautiche previste fino ad oggi. Si parla di 94 miglia, zona di acque internazionali. In sostanza Tripoli avrebbe istituito una sua area di ricerca e soccorso nella quale alle navi delle ONG è vietato entrare senza autorizzazione e questo senza nemmeno avere l'ok dei paesi vicini, come invece prevede la Convenzione internazionale. L'allerta sicurezza è stata rilanciata dal coordinamento della Guardia Costiera italiana che consiglia a tutte le ONG di rimanere a largo. Pochi giorni fa gli spari di mitra contro la spagnola proactiva ARMS e così anche le altre navi umanitarie hanno arretrato la linea dei soccorsi. I circa 300 migranti sbarcati stamattina nel porto di Augusta, provincia di Siracusa, sono stati soccorsi e trasportati da una nave militare irlandese. Al fianco delle ONG si schiera la Presidente della Camera, Laura Boldrini. Per la Boldrini è inaccettabile, ha detto esattamente la pesantissima, indiscriminata campagna di denigrazione. Parole che hanno aperto una dura polemica politica, ma che una delle difficoltà della gestione dei flussi è legata in particolare alla situazione in Libia è una questione aperta e di difficilissima soluzione. Oggi sul Corriere della Sera parla il capo del governo, quello non riconosciuto dalla comunità internazionale, quello della regione cirenaica, la parte che sta al confine con l'Egitto, il generale Khalifa Haftar. E cosa dice? Noi non arriva nessuna minaccia da parte nostra nei confronti dell'Italia, anzi se ci date 20 miliardi riesco a risolvere la soluzione, l'emergenza migranti, però poi va giù duro contro quel vertice, contro Al Sarraji, che dice ha tradito il vertice di Parigi, quello con Macron. Non c'è stata alcuna intesa con noi, io non vi ho dato alcuna luce verde, nessuno ci ha mai detto nulla, è stato un fatto compiuto, imposto, senza consultarci. Khalifa Haftar, intervistato dal Corriere della Sera, spiega che non bombarderà le navi italiane, come aveva minacciato, perché spiega italiani e libici sono amici. Ma rivendica con forza la sua sfera di influenza in Libia, nella regione della Cirenaica. Io controllo oltre tre quarti del paese, dichiara, ma soprattutto il generale prende le distanze dagli accordi siglati dal Sarraji, il premio è riconosciuto e sostenuto dalla comunità internazionale. Sarraji non ha alcuna autorità per permettere alle vostre navi di venire nelle nostre acque territoriali, puntualizza, non ha chiesto il parere a me, neppure al suo consiglio presidenziale. Ha violato in modo grave quegli accordi, dove si dice esplicitamente che mosse di questo genere vanno coordinate tra noi. La sua è una scelta individuale, illegittima e illegale. Alla fine di luglio, Haftar e Sarraji erano stati convocati dal presidente francese Macron, che aveva voluto imprimere una spinta verso una soluzione che mettesse fine a danni di violenti contrasti tra le parti in conflitto. In quell'incontro i due leader si erano impegnati per un cessato il fuoco che mettesse fine a danni di guerra. Haftar, pur non riconoscendo la piena autorità di Haftar, non chiude, però la porta al dialogo. Credo ancora in quell'intesa e spiega restano l'unica piattaforma su cui costruire la transizione per cercare di alleviare le sofferenze del popolo libico. Penso inoltre sia possibile tenere elezioni politiche in Libia il marzo prossimo come si è programmato a Parigi e probabilmente anche prima. Haftar, che ha esplicitamente chiesto alla comunità internazionale aiuti per circa 20 miliardi, una somma nulla, spiega, se paragonata a quella che l'Europa stanzia per la Turchia di Erdogan, in quest'ora è volato in Russia, dove lunedì sarà ricevuto dal ministro degli esteri l'Afrof e da quello della difesa. In passato il generale ha avuto colloqui con funzionari del Cremlino, mentre a gennaio ha visitato una porta aerea russa che incrociava nel Mediterraneo. Ha chiesto di venire a trovarci e noi lo stiamo ricevendo, hanno fatto sapere da Mosca, mentre sulla possibilità di una visita anche di alzerage, il Cremlino ha detto che nel prossimo futuro non è prevista. Ed ora la crisi tra Corea del Nord e Stati Uniti non passa giorno senza provocazioni, ma oggi la notizia in realtà è quella di una telefonata, un contatto importante, quello che c'è stato tra Stati Uniti e Cina, tra il Presidente Trump e Xi Jinping. I due avrebbero concordato con un cambio di linea, basta stop provocazioni, basta corsa agli armamenti, perché come vi abbiamo riferito nei giorni scorsi, un po' tutti i paesi dell'area si stanno preparando a un eventuale conflitto dalla Corea del Sud al Giappone, ma fino anche alla Russia. E allora con questo avvertimento, con questa presa di posizione della Cina, Kim, Corea del Nord, si troverebbe davvero in una posizione difficile, isolato da tutti. Per ora è una guerra di parole, ma l'escalation di Pyongyang, almeno nelle minacce, spinge comunque a correre ai ripari. Protagonisti sono un Presidente degli Stati Uniti, incline alla retorica della provocazione, la controparte cinese che invita ad abbassare i toni, e il terzo un dittatore imprevedibile. Dopo che la Corea del Nord ha detto di voler attaccare gli Stati Uniti nei pressi dell'isola di Guam, dove si trovano le forze armate statunitensi, Trump è arrivato a sfidarlo, parlando di guerra nucleare, una reazione di fuoco e furia senza precedenti. Oggi così interviene per placare i toni anche il Presidente cinese Xi Jinping, che in una telefonata a Washington invita alla moderazione tutte le parti interessate. La novità è che per la prima volta nei consueti annunci fatti attraverso l'Agenzia di Stato, la Corea del Nord dà indicazioni precise del prossimo lancio, specifica la lunghezza del percorso e persino la traiettoria. Dice infatti che il lancio di quattro missili Hwasan-12 passerà sopra il cielo delle prefetture giapponesi di Shimane e Hiroshima, per poi proseguire verso Guam. E così entrano in gioco anche i due paesi che di continuo convivono con le minacce nordcoreane, Corea del Sud e Giappone. Quest'ultimo, basandosi sui dati forniti da Pyongyang, ha già schierato missili intercettatori per fermare le testate anche nel caso che falliscano e cadano in Giappone. Anche Guam si prepara al peggio. Il governatore Eddie Calvo, dopo una telefonata di rassicurazione ricevuta dal Presidente Trump e che ha pubblicato su YouTube, dà istruzioni alla popolazione nel caso di un eventuale attacco. Non abbiamo intenzione di mentirvi, ha fatto sapere attraverso il responsabile della sicurezza la popolazione. Avrete 14 minuti di tempo per mettervi in salvo. Quanto basta per seguire le istruzioni che vi abbiamo distribuito nelle case. Rifugiatevi in edifici di cemento finché non vi diremo di uscire. Intanto l'agenzia Sociedad Press rivela che nonostante i toni accesi, c'è un canale diplomatico che tiene legati regolarmente Washington e Pyongyang. L'ha fatto almeno fino alla liberazione a giugno dello studente statunitense trattenuto dal regime nordcoreano. Un canale che, ora si viene a sapere, non serviva solo alla liberazione dello studente, ma anche alle relazioni tra i due paesi. E c'è motivo di pensare che questi contatti vadano avanti comunque, anche se sono più silenziosi delle minacce. Un canale diplomatico che il Presidente Trump non intende utilizzare con il Venezuela. Perché? Perché il Presidente accusa Maduro, il Presidente venezuelano, di aver cancellato la democrazia nel suo paese. Se non verrà ripristinata, siamo pronti anche ad un intervento militare, ha detto Trump, che appunto ha risposto picche alla richiesta di Maduro di un colloquio. Come sapete abbiamo truppe in molti posti del mondo, anche in quelli più lontani. Il Venezuela è vicino. Lì la gente sta soffrendo e morendo. Abbiamo molte opzioni, inclusa se necessario, quella militare. Dal suo golf club nel New Jersey, dove trascorre le vacanze, Donald Trump apre ad un ipotetico fronte di guerra, stavolta in Sud America, un altro dopo quello più volte minacciato negli ultimi giorni, alla Corea del Nord. Lo ha fatto al termine di un incontro col segretario di Stato Tillerson, con il consigliere per la sicurezza nazionale McMaster, e con l'ambasciatrice all'ONU, Nicky Alley. Poco prima aveva rifiutato una telefonata con Nicolas Maduro. Parlerò con lui, ha detto Trump, quando ripristinerà la democrazia e il rispetto della Costituzione nel suo paese. Pronta è arrivata la replica da Caracas. Questa è una follia dell'elite estremista che governa gli Stati Uniti, ha detto il ministro della difesa, Vladimir Padrino. Come soldato, ha aggiunto, sono sicuro che saremo tutti in prima linea per la difesa del nostro amato paese. Una reazione ferma alle parole di Trump è arrivata anche dall'Assemblea Costituente, fortemente voluta da Maduro, per iscrivere la Costituzione, e che, come primo atto, ha cacciato la procuratrice generale Ortega Ruiz, c'è vista della prima ora e che ha adesso assunto posizioni critiche con le scelte del Presidente. Ma a Caracas la minaccia di Trump viene presa sul serio. Nessuno vuole che il nostro paese diventi un'altra Siria, dice quest'uomo. Un intervento del genere porterebbe solo nuovi guai. Qualsiasi cosa ci possa liberare da una dittatura sarà la benvenuta, commenta invece questa ragazza. Ovviamente non ci piace la violenza, ma guardate quanta ce n'è attorno a noi. A gettare acqua sul fuoco ci hanno pensato il portavoce del Pentagono, non abbiamo ricevuto ordini in tal senso, ha detto, e il senatore repubblicano Ben Sassi, membro della Commissione Servizi Armati, che ha criticato le parole del Presidente. Ovviamente ha dichiarato, il Congresso non autorizzerà la guerra in Venezuela. Sono tanti gli italiani che hanno deciso di approfittare delle aggiovelazioni previste dalla rottamazione delle cartelle esattoriali. Fino adesso c'è stato un incasso extragettito, quindi superiore alle aspettative di quasi 2 miliardi, stando alle prime proiezioni, nei dati sulla base della scadenza di luglio sono proiezioni, ma insomma, in base a questo, se i pagamenti delle rate continueranno ad andare bene, si conta di superare il target, l'obiettivo di 7,2 miliardi, che era stato fissato nel decreto fiscale. Un extragettito di quasi 2 miliardi è quello che ha portato la famosa rottamazione delle cartelle esattoriali alla scadenza della prima rata del 31 luglio. I dati non sono ancora ufficiali, per avere quelli definitivi, precisa l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, servono ancora i tempi tecnici e fisiologici delle procedure di accreditamento, ma se fossero confermate le prime proiezioni, si otterrebbe un tesoretto di un miliardo e mezzo e forse due a disposizione delle casse dello Stato. Il Governo infatti dà le adesioni alla definizione agevolata del debito col fisco. Si aspettava un incasso di 7 miliardi e 200 milioni di euro da raccogliere per il 70% nel 2017 e per il restante 30% nel 2018. E invece la cifra raggiunta supererebbe le previsioni. Fondamentale ovviamente che i pagamenti delle altre due rate del 2017 e delle due del 2018 continuino regolarmente. La maggior parte dei contribuenti, circa 800 mila infatti, avrebbe scelto di pagare a rate i propri debiti. Fatto sta che l'esecutivo avrebbe a disposizione ulteriori coperture, seppur una tantum, per finanziare qualche misura della prossima manovra, come il taglio del cuneo fiscale per i giovani neoassunti. Taglio che secondo le prime ipotesi potrebbe costare circa 2 miliardi ed essere permanente. Anche se c'è ancora da decidere se considerare i giovani sotto i 29 anni o estendere a quelli sotto i 35. In tal caso il costo dell'intervento salirebbe. Ma c'è da affrontare anche un'altra priorità, la lotta alla povertà attraverso il reddito di inclusione. In questo caso la spesa sarebbe di circa un miliardo e mezzo l'anno prossimo e quindi 4-5 miliardi nell'arco temporale della manovra 2018-2020. Sul fronte delle coperture si sta ragionando anche sull'ipotesi di una riapertura dei termini per la rottamazione delle cartelle e cioè sul fatto che forse la ratiazione di questa prima tornata sia stata troppo stretta e avrebbe costretto molti a rinunciare anche se inizialmente avevano aderito a causa delle scadenze molto ravvicinate. Si immaginano dunque 10 rate da allargare a chi ha già aderito ma al momento è solo un'ipotesi. Prima ci vogliono i dati definitivi. E a rischio, molto a rischio sarebbero i conti dell'Atac che è l'azienda di trasporto della municipalizzata di Roma. Secondo il ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio c'è la possibilità che faccia la fine di Alitalia che vuol dire ridimensionamento drastico, che vuol dire tagli. L'azienda è stata devastata da chi ha governato Roma in passato. Noi stiamo provando a salvarla, replicano dal comune. Sul disastro Atac, l'azienda dei trasporti pubblici di Roma c'è adesso il timbro del ministro dei trasporti e delle infrastrutture Graziano Del Rio che è intervistato dal quotidiano della capitale Il Messaggero ritiene pertinente il paragone tra Atac e Alitalia. Occorre far presto, dice il ministro, rivolta all'azionista, al Campidoglio cioè servono scelte coraggiose e rapide altrimenti il rischio del dissesto finanziario è concreto. La replica dell'assessore alla mobilità di Roma, Linda Meleo, è arrivata a stretto giro. L'azienda è stata affossata da chi ci ha preceduto, ha detto Meleo da chi l'ha lasciata senza investimenti e seri progetti. Adesso stiamo correndo contro il tempo per dare vere risposte ai romani che ci chiedono un cambiamento. Ma al di là del botta e risposta politico degli errori del passato e delle indecisioni del presente la voragine dei conti della più grande municipalizzata d'Italia è sotto gli occhi di tutti ed è difficilmente confutabile. Un miliardo 350 milioni di euro di passività da sola in cinque anni dal 2011 al 2015 l'Atac ha generato il 70% delle perdite dell'intero comparto del trasporto pubblico locale 765 milioni di euro. Di gran lunga la peggiore in assoluto. Una situazione che, se possibile, negli ultimi mesi si è aggravata con ulteriori tagli delle linee, investimenti quasi inesistenti e qualità del servizio impicchiata. La percezione dei romani poi non si allontana dalla realtà negli ultimi dieci anni, infatti non hanno mai dato la sufficienza agli autobus e ai tram capitolini. Difficile poi mettere a confronto il servizio di trasporti romano con quello di Milano o delle principali città europee. A Milano l'ATM macina utili 38 milioni di euro nel 2016 e ha investito ben 172 milioni di euro per rinnovare il parcomacchine. A Roma i record sono solo in negativo dai quasi 12 mila dipendenti a un numero altissimo di passeggeri che non paga il biglietto secondo il Kodakons. Uno su quattro. Su questa strada il capolinea per Atac potrebbe essere davvero vicino anche perché incombe il referendum promosso dai radicali e visto con favore dal Partito Democratico per aprire ad altre aziende attraverso un bando di gara europeo la gestione del servizio trasporti nella capitale. In Puglia i carabinieri hanno arrestato questa mattina quattro persone a Torre Maggiore provincia di Foggia sono stati sorpresi mentre uscivano armati da un garage a bordo di due scooter secondo gli investigatori il gruppo era pronto a un agguato di fuoco gli stessi investigatori però escludono al momento che ci siano collegamenti diretti con la strage dello scorso 9 agosto a San Marco in Lamist ricorderete quattro persone uccise. Ed ora parliamo dello scandalo delle uova contaminate perché in Belgio dice il Consiglio Superiore di Sanità che l'Agenzia per la Sicurezza Alimentare sapeva da un bel po' da più di un anno dal 2016 dell'uso dell'insetticida, il Fipronil ma non ha organizzato nessun controllo nessun tipo di controllo. In Italia intanto ci sono stati alcuni sequestri cautelari. L'allarme lanciato dal Consiglio Superiore della Sanità in Belgio nel 2016 per avviare controlli preventivi sull'utilizzo nei pollai dell'insetticida finopril tossico e potenzialmente dannoso per la salute umana se ingerito in grandi quantità sarebbe rimasto inascoltato dall'AFSCA l'Agenzia per la Sicurezza Alimentare di quel paese. La denuncia del principale quotidiano nazionale, l'ESUAR che sostiene che i controlli sistematici per rintracciare l'uso del finopril non sono stati organizzati. Il Consiglio informò i Ministeri della Sanità e dell'Ambiente dei pericoli della sostanza raccomandando misure preventive. Non solo il Belgio, anche in Olanda, Germania e Francia è stato rintracciato il finopril e le produzioni sono state bloccate. Come è noto, secondo il rapporto dell'Unione Europea sono in tutto 15 paesi coinvolti tra questi c'è anche l'Italia per aver importato uova dagli stabilimenti indagati. In Emilia-Romagna ci sono anche i primi tre lotti fermati in via cautelativa di prodotti alimentari derivati da uova provenienti dai paesi sotto accusa. L'assessore regionale alla sanità Sergio Venturi ha già fatto sapere che c'è la massima collaborazione in tema di controlli con il Ministero della Salute e i NAS ed assicura che le procedure di sicurezza in atto stanno già dando riscontri. Le uova fresche italiane sono molto controllate e non ci sono problemi ha spiegato l'assessore regionale all'agricoltura Simona Caselli intanto il Ministro dell'Agricoltura Maurizio Martini ha chiesto massima trasparenza sulle etichette che specifichino in modo chiaro se l'uovo che si sta acquistando è uscito da un pollaio italiano. Ai consumatori mi sento di dire che mangiando le uova italiane non ci sono rischi per la salute e la rassicurazione del direttore generale della sicurezza alimentare del Ministero della Salute Giuseppe Ruocco. Almeno per il momento, secondo il Ministero della Salute i prodotti a rischio sono stati ritirati e non sono mai arrivati sugli scaffali di supermercati e negozi. A garanzia della salute dei consumatori il Codacons ha chiesto di sospendere la vendita in Italia di tutti quegli alimenti trasformati che contengono al loro interno uova provenienti da uno dei paesi a rischio. A proposito dei mancati controlli in Belgio c'è un aggiornamento perché sembra uno scarico di responsabilità l'Agenzia federale per la sicurezza nella catena alimentare che è stata accusata fa sapere che nel rapporto pubblicato dal Consiglio Superiore della Sanità quello del giugno 2016 che avete sentito anche citato nel servizio in realtà non veniva indicato nessuna potenziale presenza di Fipronil nelle uova. Questa è la risposta vedremo poi come finisce questa storia il dato di fatto è che quel uso di quel insetticida tossico poi c'era insomma su chi non ha fatto vedremo i controlli e allora adesso invece andiamo in Kenya dove il dopo elezioni si sta trasformando in una vera guerra con morti le elezioni scusate le opposizioni contestano il voto e dicono che ci sono stati morti tanti morti accertati sarebbero 24 secondo le opposizioni quasi 100. Scontri tra manifestanti e polizia strade e negozi in fiamme decine di morti è il drammatico bilancio delle elezioni presidenziali in Kenya che hanno visto la conferma alla guida del paese africano di Uru Kenyatta vittorioso con il 54% dei voti sul leader dell'opposizione Raila Odinga si parla di 24 morti da martedì giorno delle elezioni ma per l'opposizione le vittime sarebbero oltre 100 i disordini più gravi sono scoppiati ieri sera subito dopo la proclamazione ufficiale del successo di Kenyatta al centro delle violenze alcuni sobborghi della capitale Nairobi è la città così radichissima dove sono più forti i sostenitori dello sconfitto Odinga che non ha riconosciuto l'esito del voto denunciando manomissioni del software per la raccolta dei voti e autoproclamandosi vincitore la commissione internazionale che ha vigilato sulla correttezza del voto parla invece di elezioni sostanzialmente regolari mentre il rieletto Kenyatta ha lanciato un appello all'unità ma le violenze proseguono e si teme una replica di quanto accadde dieci anni fa quando negli scontri che seguirono le elezioni presidenziali ci furono oltre mille morti anche allora il candidato sconfitto era Odinga che anche in quella occasione denunciò Brogli ed ora negli Stati Uniti dove arrivano le immagini di una marcia a suon di slogan razzisti l'ha organizzata un gruppo di suprematisti bianchi all'Università della Virginia a una manifestazione per protestare contro la decisione della città di Charlottesville di rimuovere la statua del generale confederato lì uno dei protagonisti della guerra civile americana gli scontri come state vedendo sono molto violenti il governatore della Virginia ha messo in allerta la Guardia Nazionale ha proclamato lo stato d'emergenza ecco le botte è intervenuto anche il presidente Trump dobbiamo essere tutti contro l'odio ha detto Trump non c'è posto per questo genere di violenza in America reagiamo come un uomo solo e allora tra poco dopo il telegiornale in onda ospiti di Telese Parenzo ci sono Gianfranco Vissani Valerio Rossi Albertini e Luca Mercalli si parla di cibo alimentazione e di scandali vari riguardanti prodotti appunto alimentari va bene noi ci fermiamo qua per eventuali aggiornamenti dopo la pubblicità rieccoci con un veloce aggiornamento vi dicevamo di quella manifestazione negli Stati Uniti all'Università di Virginia manifestazione dei suprematisti contestata ci sono stati scontri e l'avete visto particolarmente violenti ma c'è stato anche un episodio un po' più grave perché è uscita adesso un'agenzia che riferisce di un'auto che è piombata sulla folla durante gli scontri ci sarebbero dei feriti gli aggiornamenti nel telegiornale della notte per quanto mi riguarda è tutto buon proseguimento